Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, I need a girl like you, yeah yeah, yeah yeah Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla tv e mi sento bene Leggo un giornale, mi straio al mare, prendo la mia vita come piede Grazie a tutti Resta, resta con me Resta, resta con me Resta, resta con me Ragazzi, anche oggi facciamo fuoco Resta, resta con me Allora donne, promozione Daniel Wellington Se acquistate un orologio sul sito, io ho preso questo bianco piccolino Avrete, utilizzando il mio codice rosa per rotta, un cinturino a vostra scelta in omaggio Io ho scelto questo, vi lascio il link, Daniel Wellington Cioè, tu con questa faccia hai il coraggio di dirmi che secondo te stasera dovrai mangiare un'insalatina Non è che proprio sei un'espressione intelligente però, eh? E anche stasera la coppia vincenze Ciao ragazzi, ciao Questo è il mondo delle spezie e delle pisane egiziane Tè al melograno Lassante, diabete, tosse, gastrite Tè beduino, tè rosa Lassati, vuoi dimagrire? Loro due sono due Dimagrire, grazie Invece, per non farci venire le smalature sul pancione Il dottore qui ci ha detto che dobbiamo usare questo Queste sono tutte cose magiche Il latte di cammella sulla pancia Poi guardate, qui c'è Per ingrandire il seno Per cellulite, per spianca denti, per psoriasi, viagra Tutto quello che vi occorre Qui c'è C'è una soluzione per tutti Buongiorno Buongiorno e benvenuti a Mario Salam Che oggi, anzi Oggi è una bellissima giornata Ci ustioneremo Ma siamo felici Deve nascere nero Ero carbone Questo benissimo Pronta signora? La faccio magrissima Wow Una sirenetta Da sola Una bella posta, mi raccomando Poi sta a prendere un sacco di like Ciao Ciao Non ci sento la posta di foto Non ci sento la posta Non ci sento la posta